benvenuti all'associazione musica monteverde sono alessandro severa e oggi ho la fortuna di parlare con un artista veramente particolare con francesco mascio ciao francesco salve a tutti ciao alessandro ecco ho avuto la fortuna di conoscere francesco attraverso il la casa editrice della italian way music che è sempre una fucina di artisti veramente di alta qualità e abbiamo in qualche modo chiacchierato un po e da le riflessioni che abbiamo fatto sono scaturiti dei discorsi molto interessanti che oggi vedremo insieme infatti parleremo di lui e del suo lavoro artistico certamente ma non ci limiteremo solo a parlare di lui in quanto artista ma sicuramente apriremo a discorsi molto interessanti e molto importanti tra l'altro abbiamo anche condividiamo anche una passione per la musica iraniana e dopo parleremo di un progetto di questo tipo e quindi non voglio anticipare altro e cominciamo e io ti chiederei francesco di cominciare a introdurre quello che è stato il tuo percorso musicale come hai cominciato come poi che tipo di percorso è scaturito fino ad arrivare bene o male all'oggi ok certo allora diciamo che ho iniziato un po di tempo fa e nello specifico da bambino molto presto ufficialmente nella biografia io indico che all'età di sei anni mi sono avvicinato al pianoforte diciamo grazie a mio padre che in realtà poi era è tuttora insomma ha sempre suonato la chitarra per per passione e ha sempre amato scrivere canzoni e nonostante io ricordo anche benissimo che già da molto piccolo volevo suonare la chitarra però mio padre in qualche modo diciamo diede maggior risalto a uno strumento diverso quindi mi stai con il pianoforte a sei anni dopodiché insomma dopo diversi anni di studio sono passato alla chitarra insomma fino ad ora che è il mio strumento principale però c'è da dire che io poi col tempo mi sono ricordato che anche quando ero già abbastanza più piccolo quindi verso i tre anni poi magari prima non ho memoria ricordo però che che cantavo sempre diverse canzoni le canzoni che potevo ascoltare all'epoca tant'è che mi ricordo delle scene un po' anche illiache in cui quando ero dai miei nonni magari d'inverno col camino si creava una sorta di di teatrino davanti al fuoco e io ero un po' l'attrattiva diciamo della serata in cui cantavo queste canzoni popolari diciamo tra la tradizione romana romanesca la tradizione napoletana e quindi diciamo che sono cresciuto in mezzo alla musica del resto anche mio nonno era musicista per cui insomma parto veramente da un approccio multidisciplinare quindi un approccio multidisciplinare che deriva anche da vari interessi quindi musicali intendo sì in effetti sì anche gli esordi diciamo che hanno questo tipo di impostazione cioè quindi voce pianoforte poi chitarra e nello specifico è lo strumento che che suono anche adesso maggiormente chitarra elettrica chitarra acustica chitarra classica però ecco poi soprattutto nell'ultimo periodo che ho incentivato un po il discorso delle produzioni anche diciamo da casa in versione diciamo home recording in realtà mi ritrovo poi a suonare spesso anche altri strumenti come il basso appunto la tastiera perché comunque è sempre diciamo è il mio primo strumento se vogliamo le percussioni perché poi c'è stata una fase della mia vita in cui ho approfondito la 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 parte ritmica proprio studiando alcune percussioni però ecco mi mi dichiaro ufficialmente un chitarrista compositore a volte dico che sono anche un ricercatore musicale proprio per questa propensione a ad andare sempre a scavare a cercare segreti nel nel mondo musicale ok e per quello che riguarda invece un discorso più specifico ossia le due influenze musicali allora intanto magari parlaci un po di quelle che sono diciamo le due principali le due principali influenze sul tuo proprio sul tuo lavoro quelle che riconosci e quelle che magari hai attivamente coscientemente inserito nel tuo lavoro e magari anche provare a pensare se effettivamente sono congruenti con la musica che maggiormente ascolti oppure no perché potrebbe anche essere diversamente a volte può succedere che magari si ascolta tanti tipi di musica ma poi sia influenzati da un certo tipo di musica che magari non rientra tra gli ascolti più frequenti certo allora diciamo che da un punto di vista diciamo così professionale quindi in ambito di quelle che sono state anche le mie pubblicazioni all'interno dei miei album diciamo che la matrice jazz è sicuramente la parte dominante di un po tutti i lavori cioè è proprio l'elemento che accomuna un po tutto quello che ho fatto fino ad ora diciamo che ho ascoltato tanta musica ad ampio spettro però mi sono sicuramente soffermato maggiormente sull'analisi e lo studio del del panorama jazz e e questo chiaramente poi lo si sente appunto all'interno delle pubblicazioni però nello stesso tempo a parte un disco ormai di più di dieci anni fa che si chiama europa jazz quarter dove diciamo prettamente un jazz più diciamo classico comunque anche sempre di stampo moderno poi quasi tutti i lavori hanno sempre avuto un taglio tra virgolette crossover cioè hanno gettato dei ponti su quelli che sono stili poi non propriamente come dire affini al jazz quindi ad esempio c'è stato un primo un album ganga spirit del 2015 se non sbaglio dove ci sono delle influenze con la musica indiana poi un altro lavoro che era un esperimento tra diciamo una commissione di jazz musica caraibica come scaamento reggae successivamente un altro album ispirato le filosofie orientali via dicendo insomma quindi si può dire che che all'interno insomma della mia musica ci siano realmente diverse influenze e che poi ogni volta che vado a diciamo ad aggiungere lavori nuovi ecco magari vengono fuori sempre sorprese quindi diciamo attingi sia da quello che è il tuo background tradizionale ma lo fondi sostanzialmente con tantissime influenze che provengono proprio da paesi diversi da musiche di paesi diversi e infatti hai citato l'india hai citato la musica caraibica poi più in là parleremo anche dell'iron ma a questo punto questo mi fa venire in mente una riflessione il tuo quindi si può definire uno stile composito ma in realtà secondo te ha senso parlare di stile di un certo di un artista che ha uno stile soprattutto in tempi come quelli di adesso dove effettivamente tantissimi artisti in realtà hanno scelgono la via della contaminazione e quindi a questo punto anche diciamo che cambia da un album all'altro per esempio quindi ha senso effettivamente parlare di stile univoco per un artista laddove ormai quindi c'è questo assorbire da influenze esterne che appunto è in continua evoluzione proprio durante la vita degli artisti allora in effetti questa è una cosa che mi sono chiesto e posto diverse volte proprio perché non amo molto le definizioni in quanto credo che la definizione renda le persone poco attente poco concentrate no infatti finché noi non abbiamo con la nostra mente diciamo stabilito un termine che racchiuda quel concetto per quanto poi non possa essere racchiuso assolutamente in quanto è infinito e sempre variabile però se gli diamo un nome allora sembra che noi lo conosciamo sembra familiare e ci sentiamo a nostro agio e quindi tutti vogliono sempre in qualche modo dare un nome alle cose del resto è anche indispensabile no perché se non ci fosse la semantica il linguaggio saremmo in serie difficoltà però nel caso della musica e nello specifico nel mio caso che amo proprio cercare di trovare delle delle formule che non siano come dire prettamente già già così scontate già incasellate già esistenti se posso permettermi di dire questa cosa sarebbe più carino dire ok ascoltiamo e poi ognuno ci può sentire qualcosa perché poi all'interno di un di un album ci sono tantissime influenze e ognuno poi ci sente ciò che in grado di riconoscere e però dato che comunque questo è un po un concetto utopistico e dato che nel tempo necessariamente dovuto dare una definizione a quello che facevo e diciamo che il termine forse jazz crossover almeno ad oggi è quello che è prevalso rispetto alla mia produzione musicale certo anche perché comunque nella stessa parola crossover c'è poi tutto quello in più che non viene detto diciamo perché poi il jazz sicuramente è orientate è orientativo perché tra l'altro anche in realtà la parola stessa di jazz ha diciamo tantissime possibilità perché si può pensare a miles davis quanto ad alde meola quindi in realtà c'è una varietà c'è una varietà all'interno di una parola del genere comunque già molto ampia quindi si scusami se ti interrompo perché è molto carina ed esprime forse meglio questo che stiamo appunto dicendo pare che il termine jazz inizialmente agli soldi se non ero questa citazione si trova anche in un film famoso la leggenda di testa sull'oceano e pare che quando non si sapeva che musica fosse allora era jazz e questo esprime già proprio l'importanza del concetto di jazz inteso come non come qualcosa di che viene emulato quindi ok se è fatto con contrabbasso batteria e tromba allora bisogna rifarlo con contrabbasso batteria e tromba in teoria quello non sarebbe più jazz perché è stato già fatto è riconoscibile mentre il jazz è qualcosa di sempre nuovo qualcosa di fresco qualcosa che non si conosce qualcosa che è frutto dell'improvisazione e la vera improvvisazione non può essere già conosciuta a priori per carità c'è un linguaggio c'è uno studio che portano a diciamo a suonare in un certo modo però bisognerebbe sempre ricordarsi di questa freschezza che appunto quando non sai così allora è jazz e questo penso sia importante certo di non incasellare diciamola perché proprio diciamo la parola stessa dovrebbe invece denotare una varietà ben ampia e invece che incasellare in un quadrato abbastanza stretto a proposito hai parlato di improvvisazione allora a questo punto mi viene da parlare di chiederti delle due composizioni quanto c'è di composto tra virgolette quanto c'è di improvvisato all'interno delle due composizioni dei tuoi dischi soprattutto per quanto riguarda alcuni che magari ti vedono proprio con la chitarra diciamo diciamo solista che svolge diciamo la maggior parte del lavoro sia per quello che riguarda l'accompagnamento sia per quello che riguarda la melodia allora fino a una certa epoca diciamo che la componente improvvisazione e composizione si basava un po insomma un po come il concetto del del classico standard jazz in cui c'è un tema che rappresenta la composizione quindi la forma scritta e poi lascia spazio a di solito ad una struttura armonica all'interno della quale avvengono i soli e però poi c'è stata una dato che amo molto la sperimentazione c'è stata una parentesi in cui mi sono dedicato avuto anche la fortuna insomma di lavorare con alcuni esponenti dell'improvvisazione radicale e questo mi ha portato anche a realizzare due album nello specifico totalmente improvvisati quindi il cento per cento della musica è una composizione che avviene in tempo reale in cui non è stabilito né la tonalità né il ritmo né magari se inizia la batteria piuttosto che il basso quindi totalmente basato sulla sensibilità degli artisti sulla base di ciò che accade al momento dell'ispirazione del momento quindi questo caso ad esempio c'è il cento per cento dell'improvvisazione mentre sempre più diciamo negli ultimi anni dato che la sperimentazione ripeto mi piace molto quindi continua ci sono anche brani e questo mi ha sorpreso molto in cui io non improvviso assolutamente nulla cioè dall'inizio alla fine cioè tutto è scritto tutto è suonato così come è stato pensato quindi ecco se posso tirare le somme diciamo che il 51 per cento di tutto quello che faccio è sicuramente strutturato sull'improvvisazione però poi c'è una parte che invece è pensato soprattutto a livello di composizione sì quindi diciamo che hai attraversato diverse fasi in cui hai coperto tutti i tipi di approccio compositivo improvvisativo se vogliamo sia quello completamente compositivo sia quello completamente improvvisativo e sia una combinazione dei due sì e a proposito per i nostri spettatori se potessimo in qualche modo riferirci al quello che tu hai chiamato improvvisazione radicale stiamo parlando di una filosofia simile quindi al free jazz no in realtà no perché il free jazz per quanto possa essere improvvisato è sempre una forma di jazz in cui magari c'è un tema c'è un ritmo c'è una struttura e l'improvvisazione radicale è totalmente libera e non è detto che sia jazz potrebbe essere anche pop potrebbe essere musica etnica potrebbe essere hip hop potrebbe essere noise rock heavy metal sostanzialmente è semplicemente totalmente libera e facilisticamente può andare più verso una direzione piuttosto che un'altra ma perché molti certo viene associata al free jazz e a volte somiglia sembra il free jazz però concettualmente sono due cose assolutamente distinte e separate perché però la seconda ha un più varietà una varietà maggiore insomma sì l'improvvisazione radicale almeno per come la intendo io poi c'è chi la chiama anche instant music quindi musica istantanea e non ha cioè non ha in sé necessariamente i canoni del jazz quindi canoni del free jazz ma può può essere anche di stampo per esempio etnico acustico può avere influenze anche di musica classica cioè non c'è nessun tipo di limitazione la cosa importante è che tutte le note che vengono prodotte tutti i suoni che vengono prodotti sono il frutto dell'isposizione del momento cioè una musica che fuoriesce scaturisce dal qui e ora certo allora abbiamo parlato abbiamo accennato alla musica dell'iran ed è qualcosa che mi è molto caro perché io ho avuto la enorme fortuna di poter conoscere e collaborare con dei musicisti iraniani eccezionali i fratelli Mohsenipur che fanno parte del barbad project con cui ho avuto veramente l'onore di poter collaborare e tra l'altro sono diventati veramente dei grandissimi amici e quindi sono molto affezionato alla musica iraniana mi sento molto vicino tra l'altro quando uscirà questo video sarà il giorno in cui la sera di quello stesso giorno ci sarà il capodanno persiano quindi a tutti e a tutti i nostri amici iraniani non rus pirus e quindi venendo a noi abbiamo visto sempre attraverso l'italian way music perché proprio con john con john toso hai approntato un progetto che proprio riguarda la musica iraniana proprio con dei musicisti iraniani e hai sviluppato più di un album che riguarda questo tipo di progetto quindi se insomma parlasi di questo progetto e più approfonditamente certo allora questo progetto nasce attraverso la collaborazione con un musicista iraniano nello specifico musicista di etnia kurda che si chiama siamak guran in cui mia mi proposi insomma a questo matrimonio diciamo kurdo italiano o comunque persiano italiano iraniano italiano e nello specifico questo è un progetto che non riguarda solamente la musica ma riguarda anche la poesia infatti diciamo il progetto si costruisce intorno a delle poesie di artisti iraniani in diverse lingue tra l'altro quindi sia lingua parzi parzi e si è lingua kurda che poi sono state tradotte in italiano e sia quindi la versione in lingua originale che lingua italiana poi è stata musicata appunto da questo musicista persiano siamak guran e me e quindi è un diciamo che è un è un progetto di in cui c'è sia poesia appunto letteratura cioè comunque sia di incontro tra cultura kurda e tra cultura iraniana persiana e cultura e cultura italiana quindi questo poi ecco con john appunto c'è diciamo c'è una collaborazione da tempo e a quando io a lui ho proposto questa questa idea lui è stato subito felicemente propenso insomma a pubblicarlo appunto con l'italian way music e devo dire che è stato assolutamente un progetto edificante perché mi ha fatto conoscere ancora più da vicino una cultura molto interessante una cultura molto antica tra l'altro io sono un un fervente diciamo studioso di di quello che è proprio tutta la cultura indoeuropea no mi piace proprio di scoprire un po tutto il percorso che pare che parta dall'india passi appunto anche per il medio oriente quindi l'iran arriva fino in grecia e e poi influenza tutto il mediterraneo all'interno di cui l'italia fondamentalmente è un po al centro e noi abbiamo chiaramente attinto tantissimo a livello culturale in tutti gli ambiti quindi linguistico musicale anche se vogliamo parlare di cucina di stile di cultura e e c'è un pur pur lì insomma di tutte queste cose e la persia l'iran è sicuramente un anello in puntassello importante che funge un po da congiunzione tra la parte più orientale la parte più vicina a noi assolutamente tu del resto accennato al fatto che in effetti l'iran è un paese da che ha una lingua indoeuropea che praticamente la stessa famiglia della lingua italiana tant'è che ci sono alcune parole proprio della lingua verziana che sono molto simili a quelle italiane come ad esempio modar significa madre e non è difficile da comprendere la lingua indoeuropea che è una lingua indoeuropea ma non solo diciamo con noi anche con l'inglese hanno tantissime analogie pensiamo la parola d'ortar che significa ragazza e che ha un suo diciamo corrispettivo nell'inglese che è daughter che è molto più simile diciamo quindi sì 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 è una cultura interessante tra l'altro come tu hai affermato forse qualcuno se lo sarà chiesto visto che hai parlato di curdi e di persiani allora stiamo parlando dell'iran quindi stiamo parlando di un paese che è grande come due o tre paesi europei quindi diciamo ci sono all'interno una varietà di popolazioni e culture diverse molto ampie molto diverse tra di loro di cui i curdi sono una di esse cioè i curdi in in realtà abitano una una zona che è molto ampia arriva dalla ducchi dal diciamo dall'est della turchia e arriva fino al appunto all'iran e all'interno dell'iran c'è tutta una parte una zona in cui la lingua diciamo madre è il curdo nonostante lingua ufficiale comunque sia al parsi perché comunque all'interno di tutto il paese è quello ma ci sono tantissime altre popolazioni ad esempio gli azeri che sono sostanzialmente dei turcofoni i baluci che sono un altro gruppo indoeuropeo e insomma così via c'è una cultura molto aria molto vasta ed è per questo insomma anche che c'è anche una grande varietà anche musicale a questo anche perché avrai notato insomma tutta tu lavorandoci avrai sicuramente notato io una volta ho fatto un medley che conteneva diverse musiche tradizionali che provenivano da diverse parti dell'iran e effettivamente c'era tutta una particolarità in ognuna di esse che faceva riconoscere proprio come se si cambiasse posto quando veniva quando veniva cambiata musica allora visto che abbiamo parlato di questo parlando del futuro della musica andando un po a riflettere su questo secondo te la fusione tra l'occidente e l'oriente ma in questo punto in generale tra le musiche di vari paesi le musiche tradizionali e non può effettivamente rappresentare un orizzonte per quello che potrebbe essere l'evoluzione del linguaggio musicale del modo di scrivere di comporre e di fare musica in futuro sì allora io sono un sostenitore del fatto che le arti e la musica inclusa siano diciamo dei catalizzatori che permettono proprio di creare aggregazione di creare anche conoscenze tra culture diverse anche se andiamo a vedere restando quindi nell'ambito della musica grandi esponenti della musica mondiale di qualunque stile quindi cito non so rai chars piuttosto che bon marley o anche il queen no quello che hanno fatto è sempre stato cercare di coniugare tra loro stili che magari apparentemente per un certo periodo non si sono non hanno comunicato e questo ha fatto sì che poi venissero fuori delle musiche tra virgolette nuove no magari ecco ricordo e c'è anche nel film dove si imputava rai chars il fatto che avesse coniugato la musica dei bianchi alla musica sacra gospel no però è proprio poi quello che crea un'apertura che crea anche un riconoscimento no tra quello che può essere poi lo status magari appunto del l'afro americano e del del bianco no perché poi quando ci si ritrova a ad amare la stessa musica in cui ci sono elementi di entrambi i contesti allora poi ci si rende conto che c'è più di qualcosa in comune e e nello specifico il dato che io sono anche un appassionato di quelle che sono un po le le filosofie orientali in genere e già dal diciamo dal secolo scorso c'è e c'è stata molto molto questa incursione del pensiero filosofico orientale in occidente e io credo che questo abbia creato una un'apertura e naturalmente la musica non può che riflettere l'arte non può che riflettere questa tendenza diciamo culturale basta basta pensare semplicemente a john coltrain che è stato uno dei più grandi sassofonisti jazzisti compositore insomma del secolo scorso che era un fervente appassionato di musica orientale probabilmente indiano nello specifico tant'è che ha chiamato suo figlio ravi perché collezionava i dischi di ravi shankar certo e e questo ha fatto sì che lui avesse poi questa profondità questo linguaggio questo stile questa inflessione proprio nella pronuncia che magari stando solo in quel contesto di quel periodo di quel luogo sarebbe riuscito ad ottenere e quindi io penso che sia importante rendersi conto che c'è sempre qualcosa da scoprire e nel momento in cui poi lo si assorbe nella propria musica si diventa anche poi si fa anche in modo che altri possano scoprirlo e quindi c'è sempre questa curiosità c'è sempre questa rigenerazione della musica che a differenza di quanto sostiene qualcuno io credo che sia assolutamente infinita come poi del resto lo è tutto beh sicuramente quello che si può creare le varie combinazioni se non infinite sicuramente sono al di fuori della nostra portata di conto quindi questo sicuramente ma quindi parlando di facendo riferimento a quello che hai appena esposto quindi anche per esempio parlando di chitarra tu consigli anche di ascoltare in realtà altri strumenti per essere influenzati nel modo di suonare similmente per poter ricevere diciamo un apporto più vario rispetto magari a quello che sarebbe se si ascoltassero solo altri chitarristi per esempio sto facendo assolutamente sì sì assolutamente tant'è che questa è una delle tematiche che io porto anche nelle mie masterclass di chitarra dove sostanzialmente mostro anche proprio praticamente come si può riportare sulla chitarra lo stile di altri strumenti come non so il tar piuttosto che l'ud piuttosto che il sitar e ovviamente questo supportandolo anche con delle accordature che non sono le accordature convenzionali della chitarra classico mi si sorre la mi ma accordature nuove che anche lì poi non voglio dire che sono infinite perché c'è una matematica che a un certo punto impone che vi sia un punto d'arrivo però comunque le possibilità sono veramente tantissime perché basta andare a interagire con una su una corda delle sei e avere sempre una accordatura nuova delle sonorità nuove e anche del degli input degli stimoli poi diciamo chitarristici che sono sempre nuovi diversi stimolanti insomma quindi tu hai fatto accenno alle masterclass e quindi qui veniamo un po anche al tuo lato didattico al tuo lato diciamo di insegnamento perché tu oltre ovviamente a presentare i tuoi brani online per esempio su youtube in realtà tu hai anche diciamo una vocazione che è quella dell'insegnamento e la esponi anche in questo modo quindi se ci puoi parlare anche di questo tuo lato diciamo oltre a quello artistico c'è anche questo didattico ecco sì certo no credo che l'aspetto didattico sia per me quantomeno insomma importante fortunatamente è un aspetto che mi piace forse non vorrei dire proprio come l'attività concertistica però diciamo di pari passo è una cosa che che mi fa crescere il fatto di poter comunicare in forma semplice a un bambino piuttosto che anche un musicista avanzato dei concetti che io stesso ho acquisito o a mia volta da altri insegnanti o che ho diciamo scoperto personalmente mi piace poi la divulgazione quindi far scoprire diciamo la bellezza di quella che è il concetto di armonia di ritmo di scale di trovare gli spunti per la composizione i suoni e quindi è sicuramente una cosa che mi dà stimolo e gratificazione e poi mi piace insegnare anche a tutti i livelli ad esempio in questo periodo da quest'anno diciamo da ottobre dell'anno scorso sto insegnando anche in una scuola nel bosco dove ci sono dei bambini che hanno un approccio didattico un po' diverso diciamo dalla scuola pubblica dove anche ho insegnato per un periodo e devo dire che lo trovo molto stimolante perché in questo caso faccio delle lezioni di gruppo e non diciamo non affronto quasi mai l'aspetto teorico della musica ma insegno direttamente sul lato pratico quindi attraverso canzoni, attraverso il ritmo, attraverso il suonare anche direttamente in gruppo ed è molto bello Ma questo tipo di scuole fanno lezioni nel bosco di tutte le materie o solo della tua? No, chiaramente fanno tutte le materie, quindi matematica, scienze, italiano e poi un giorno a settimana hanno la lezione di musica Ok, ok, però tutto all'aperto diciamo, questo è particolare, forse avevo sentito il nome di questo stile diciamo nuovo approccio di insegnamento Sì, allora quando è possibile all'aperto, quindi ad esempio adesso dalla primavera in poi non ci sono grossi problemi chiaramente d'inverno invece ci sono delle iurte che sono comunque delle strutture particolari, circolari, in legno quindi materiali naturali che hanno anche una buona acustica devo dire e tutto avviene insomma all'interno di queste strutture Ho capito, ho capito, quindi diventa anche particolare ma quindi invece per quello che riguarda l'online tu diciamo per esempio io chiaramente so che hai un canale YouTube tu lo utilizzi anche per l'insegnamento? Allora, c'è stato un periodo in cui ho condiviso un po' di materiale didattico per lo più avanzato quindi c'è una lezione ad esempio sullo standard jump step che tra l'altro è rivisitato su un tempo in sette quarti ci sono delle lezioni su una scala indiana, su una scala araba, sulla scala esatonale sul arrivare a suonare con tempi dispari se non ricordo male, in particolare un tempo in nove ottavi quindi ci sono delle lezioni un po' avanzate, se non ero sono otto lezioni in tutto e devo dire che è stato un bel esperimento, anche quello ha funzionato e guarda caso in particolare il video che è piaciuto di più era proprio quello che verteva sulla scala araba che era la scala bizantina nello specifico e poi diciamo che non voglio intasare il mio canale solo prevalentemente su aspetti inerenti alla didattica per cui ci si trovano anche molti dei video legati alle mie composizioni, ai miei ultimi album e se posso aggiungere, dato che il mio ultimo singolo è un brano che si chiama A Song For Peace per questo brano ho realizzato anche un video che a breve pubblicherò perché manca poco alla realizzazione, mancano gli ultimi dettagli del montaggio e quindi sicuramente a breve verrà pubblicato sul mio canale YouTube tra l'altro come anticipazione di un nuovo album che sto per realizzare Ah, poi infatti ci arriviamo a questo nuovo album ma prima di arrivare a quelli che saranno i due progetti futuri allora restiamo un attimo su quelli che sono le nuove tecnologie e i nuovi media che poi chiamarli nuovi diciamo adesso è proprio errato però diciamo che con queste nuove piattaforme che teoricamente dovrebbero permettere una maggiore promozione del proprio operato musicale c'è effettivamente un vantaggio rispetto alle persone comuni che soprattutto non si possono permettere grandi spese come magari appunto può fare un ufficio stampa ben attrezzato oppure c'è ancora un grande divario tra chi di fatto non si può permettere la propria promozione e chi invece lo può fare Sì, allora, venendo al discorso dei social quindi mi sembra di aver capito sicuramente ogni artista non solo perché ormai anche le persone comuni chiaramente condividono il loro mondo e poi questo per come la vedo via è un po' opinabile nel senso io per motivi di lavoro mi ritrovo naturalmente a condividere quelli che sono le rocandine dei concerti piuttosto che i frammenti di video piuttosto che i videoclip delle nuove pubblicazioni e via dicendo perché è materiale che chiaramente oggi funziona da un punto di vista da un punto di vista di immagine, di visibilità e di ritorno per quello che poi è la propria attività ma sono sincera non amo molto la dimensione virtuale e quindi se non facessi questo lavoro probabilmente non starei a condividere le mie foto piuttosto che i miei video e quindi credo che diciamo ecco internet e tutto quello che ne deriva sia uno strumento e come qualsiasi altro strumento si viene utilizzato con consapevolezza con il giusto senso della misura e può essere sicuramente utile se invece vi è uno squilibrio in cui si pensa che tutto sia solamente all'interno del social e si perde di vista quella che è la fonte che bisognerebbe condividere quindi la sostanza la parte artistica, musicale, concreta, reale che scaturisce comunque da uno studio scaturisce da una ricerca dalla vita anche che non è fatta necessariamente su un telefono e un computer ecco allora ripeto se viene fatto consapevolmente va bene altrimenti no non credo insomma ecco tutto qua quindi un pochino di bisogna si può dire che ti preoccupa un po' anche qualche tendenza diciamo invece a non farlo consapevolmente a perdere diciamo di vista quello che è la sostanza piuttosto che l'apparenza beh allora io ho un bambino di otto anni e quindi diciamo mi rendo conto che siamo in una società che tende molto verso il discorso del virtuale e non si può far finta di nulla tant'è che io a volte vado anche a capire cosa possa essere un TikTok piuttosto che altre tendenze social proprio per capire qual è anche il futuro che si trova diciamo ad accogliere poi mio figlio e ripeto se c'è un equilibrio va bene ma se questo equilibrio viene perso ecco possono esserci delle problematiche tant'è che sentivo che i figli di Bill Gates piuttosto che di molti dei proprietari di social eccetera non autorizzano insomma non autorizzano i figli a stare più di un tot di tempo sul telefono sul social proprio perché credo che chi ha strutturato la cosa e ha in mano i dati sa perfettamente che un utilizzo sbagliato di alcuni strumenti possa danneggiare sì assolutamente assolutamente infatti hai parlato insomma tu dell'esperienza con tuo figlio in effetti è qualcosa a cui cominciamo a dover fare attenzione il tempo che lasciamo dedicare a bambini molto piccoli rispetto a questi tipi di intrattenimento ma diciamo questo a prescindere dal fatto che siano social o meno nuovi social o meno perché anche diciamo con i vecchi videogames funzionano in questo modo in realtà è l'abuso che rende diciamo il tutto più preoccupante però sicuramente è qualcosa da tenere d'occhio soprattutto perché adesso appunto come hai fatto notare vanno a finire in mano a persone di giovanissima età insomma e quindi che non sono difese da un punto di vista psicologico per eventuali diciamo mille cose dipendenze ma anche reazioni rispetto a quello che vedono insomma ce n'è insomma da da essere preoccupati se se ne vuole comunque sì allora tornando a noi invece tu prima hai parlato del fatto che c'è un album nuovo che sta per arrivare diciamo qui seguirà immagino a questo punto una serie di concerti promozionale sì certo allora generalmente in concomitanza dei nuovi lavori seguono sempre dei live fermo restando che avendo più progetti mi capita anche poi di riprendere concerti magari di lavori precedenti e tra l'altro questo nuovo album su cui stavo lavorando ha un'ulteriore peculiarità sempre per insomma la mia passione di sperimentare o se vogliamo di complicarmi la vita mi diverto comunque a complicarmela è un album realizzato internamente in acustico quindi suono prevalentemente chitarra classica chitarra acustica e all'interno poi dell'album ci sono diverse appunto di quelle famose accordature aperte di cui parlavo prima sempre per sperimentare e complicare e quindi diciamo che è un album che ha appunto una sonorità molto acustica però all'interno ci sono numerosi ospiti perché c'è un insomma non faccio troppi nomi per ora però ci sono musicisti dall'Iran musicisti dall'Irlanda musicisti dal Senegal musicisti dalla Libia musicisti chiaramente dall'Italia e timbri diversi dalla fisarmonica alla Cora dal Biovino al Tambur varie voci e quindi sarà sicuramente un disco pieno di sorprese con sound molto diversi tra loro e poi devo dire che almeno fino a questo momento mi sta dando soddisfazione perché le composizioni sono molto molto ben strutturate nel senso c'è una componente compositiva molto prevalente e in questo momento o almeno per questo album desideravo che fosse così desideravo che ci fosse proprio ecco una una bella componente di melodie e armonie ben pensate e strutturate bene quindi sei soddisfatto di quello che sta per andare in pasto diciamo al pubblico ecco quindi sta per arrivare a un bel risultato bene allora io ti ringrazio di essere stato qui e spero di riaverti con noi in futuro e dico a tutti i nostri spettatori che considerate di supportarci con un commento con un like o mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e soprattutto condividete il più possibile fate tantissima pubblicità a questo canale per poterci permettere di restare su youtube e continuare a fare questo lavoro sempre meglio per voi e soprattutto di condividere la cultura musicale in Italia e nel mondo vi aspetto al prossimo video per altre lezioni di musica ciao a tutti